Siamo con Stefano Domenicali alla fine del briefing post Gran Premio del Bahrain. Quali sono stati i temi principali analizzati durante questa riunione? I temi che abbiamo visto oggi insieme ai nostri tecnici sono stati fondamentalmente quelli legati ai problemi che abbiamo dovuto gestire nel corso del weekend, anche se ovviamente non hanno avuto effetti disastrosi nel risultato della gara, però come sempre nel corso delle prove libere, prove ufficiali e gare, emergono dei problemi che vanno risolti e quindi abbiamo visti ad uno ad uno, analizzandole nel dettaglio, definendo le responsabilità e cercando di attivare da subito le azioni che dobbiamo mettere in piedi per far sì che queste anomalie vengano risolte ovviamente prima della prossima gara. C'era molta attesa per la prima gara della stagione, che atmosfera si respira Maranello all'indomani di questa doppietta? Ma è chiaro che è un'atmosfera molto positiva perché siamo venuti da un inverno difficile dove come sempre sono i fatti che devono dimostrare se la gente ha lavorato bene oppure no e questo risultato ha in ogni modo dimostrato una cosa, che la preparazione che abbiamo portato avanti in questi mesi invernali è stata quella giusta. Tutt'altro discorso è quello legato al fatto di essere vincenti da subito per come è andata la prima gara rispetto al campionato che sappiamo che sarà molto molto lungo, però insomma è una macchina andata bene e questo dà grande fiducia nell'affrontare le prossime gare che già da domenica in Australia ci metteranno di fronte a dei concorrenti molto guerriti e sappiamo che sono assolutamente molto forti. Che voto ti senti di dare alla Ferrari nel weekend del Gran Premio del Bahrain? Abbiamo fatto un primo o un secondo posto, quindi se non ci diamo un voto alto quando facciamo un primo o un secondo posto diventa difficile. Diciamo 8 perché abbiamo dei problemi da mettere in fila e da risolvere, però 8 va bene come punto di partenza.